L'ex cavaliere comunque è convinto che Renzi non faccia sul serio e questa visione sarebbe confermata da alcune alcune fonti? Alla domanda se il governo Conte cadrà, Silvio Berlusconi risponde, in inglese, con fare Sibillino, dai Temsi, aspettiamo e vediamo. L'ex cavaliere comunque è convinto che Renzi non faccia sul serio e questa visione sarebbe confermata da Alcane alcune fonti secondo cui Italia viva punta ad alzare il prezzo della sua permanenza nella maggioranza, come dimostra la partita sui fondi MES, ma non sarebbe intenzionate a forzare davvero la mano. Anche oggi i renziani minacciano la rottura. Stasera il senatore e presidente di quarto, Ettore Rosato è stato trancian, così che non si può andare avanti, o si definisce un'agenda che possa incidere realmente nella politica del nostro paese, che si occupi di protezione e di rilancio economico, o non siamo disposti a tenere in vita un governo che non governa al di là dei toni perentori ad Arcore c'è la sensazione che all'ultimo momento Renzi possa tornare sui suoi passi. Berlusconi, dunque, resta alla finestra e attende i prossimi sviluppi, tifando per un clima di unità nazionale come auspicato dal folle di fronte alla nuova emergenza coronavirus dettata dalla seconda ondata di contati e dal rischio di una terza. Pallottoliere alla mano Per il leader azzurro l'ipotesi di un nuovo governo di centrodestra con forze responsabili non è qualcosa di campato in aria, ma i numeri sono troppo ballerini e le fibrillazioni interne alla maggioranza giallorossa, soprattutto tra i 5 stelle. Per fare previsioni attendibili mentre Berlusconi sta a guardare e resta in silenzio, Matteo Salvini spinge sull'acceleratore della crisi e parte lancia in resta contro il Conte Bis, prendendo spunto dal DL Sicurezza. Approvato oggi al Senato, PD e Movimento 5 Stelle siete vergognosi e indegni, pensate agli immigrati clandestini e non ai tanti italiani che sono in enorme difficoltà. Il numero 1 di Via Bellerio si scaglia contro Palazzo Chigi denunciando la mancata assunzione di responsabilità nella gestione dell'emergenza a Natale, stanno litigando sulla pelle degli italiani. Basta, fate qualcosa, prendetevi la responsabilità di decidere. Non potere litigare e rimandare. Fuori le palle, siete dei cazzari per di tempo. Sulla stessa linea Giorgia Meloni, presidente di FDI, questo è un governo di cinici e irresponsabili. Grazie a tutti.